L'Unione dei Comuni c'è ma necessita di essere strutturata per essere messa nelle condizioni di poter lavorare e soprattutto di poter realizzare progetti da presentare alla Regione e non perdere così le enorme mole di finanziamenti disponibili. L'allarme è arrivato questa mattina durante l'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra i Comuni che compongono l'Unione. Il Presidente Carlo Romano è stato molto chiaro, tutti gli adempimenti necessari al funzionamento dell'Unione che dipendevano dai Comuni sono stati realizzati per tempo, ma questo rischia di non bastare. Abbiamo convocato un Consiglio Comunale monotematico proprio per fare in modo che grazie agli organismi che compongono l'Unione dei Comuni e cioè i sindaci di Niscemi, Butera e Gela e i nostri Consigli Comunali si venga a creare una la voglia, cioè la proposta di fare in modo che prima possibile vengono a accompersi tutti gli adempimenti necessari per rendere operativa l'Unione dei Comuni e per fare in modo che i finanziamenti che potrebbero essere utilizzati attraverso le sue realizzazioni non vengano persi o vengono ritardati nello proprio uso e la proprio utilizzo. L'Unione dunque va strutturata partendo quasi da zero e sorta lo scorso anno per il ciclo della nuova programmazione 2021-2027, un ammontare potenziale di 70 milioni di euro per finanziamenti disponibili. Non c'è però personale da destinare in via esclusiva e i Comuni non riescono a mettere a disposizione risorse interne che sono già decisamente carenti. In questo momento manca una struttura fisica dell'Unione dei Comuni, stiamo cercando di realizzare e vogliamo realizzare quelle condizioni per rendere l'operativa prima possibile l'Unione dei Comuni e anche attraverso, pensiamo, un nostro intervento all'euro regionale con il fatto che noi ci regheremo molto probabilmente al Dipartimento della Programmazione per fare in modo che a livello regionale già tutta la documentazione che è stata prodotta venga poi ad essere, a fare in modo che l'Unione dei Comuni possa essere attivata perché fino a quando non viene accettata la nostra documentazione che è stata una delle prime prodotte in Sicilia non si può rendere operativa l'Unione dei Comuni e quindi il rischio è forte perché improvvisamente la regione potrebbe dire va bene iniziamo a proporre progetti ma noi ancora non abbiamo i requisiti minimi fisici per realizzare, per fare in modo che venga a essere attivata l'Unione dei Comuni.